Amici sportivi amanti del motosport e soprattutto amanti del motorismo regionale ecco che abbiamo in studio con noi questa sera la coppia che al recentissimo rally della Valdinievole ha menato Fendenti a destra a Manca nella classe R2B arrivando esattamente a scalare la classifica fino all'ottavo posto assoluto ovvero alla mia sinistra Thomas Paperini classe 1996 e membro della Pistoia Corsa lo vedete dalla camicia che indossa e alla mia destra Simone Fruini suo navigatore classe 1991 ex ciclista quindi il nostro muro e il nostro murale per te è abbastanza familiare familiare bene dunque mi dicevi prima telecamere spente che il recente Valdinievole per te è stata la gara perfetta ora spiega ai nostri telespettatori come e perché diciamo è stata la gara perfetta perché diciamo era molto sentita come gara la prima gara dell'anno quindi l'abbiamo preparata nei minimi dettagli alt tu eri alla prima gara con una vettura R2B era il debutto con la 208 si perfetto fatta dal mitico Cecchini della 2M Motorsport quindi ragazzi mai montato su questa macchina subito immediatamente quattro prove controllano la classifica e vedono che il secondo è già a quasi 30 secondi cioè così è pronti via qual è stata la prima impressione o lui ti raccontava delle bugie oppure c'era qualcosa di strano raccontarci la prima impressione diciamo soprattutto sabato mattina allo shakedown sono trovati subito perfetti con la macchina cioè praticamente non hai regolato nulla nemmeno il sedile sulle guide mi sono affidato completamente a Cecchini e la macchina ha comportato in maniera perfetta abbiamo subito preso un ottimo feeling e diciamo già a fine shakedown avevamo della consapevolezza di poter far bene poi entrati in prova i tempi hanno parlato senti un po simone ma tu da dentro ti rendevi conto che effettivamente eravate di un altro passo sinceramente come diceva thomas fin dalla mattina abbiamo avuto la sensazione di andare bene poi chiaro non sai mai come come sono i tempi confrontandosi con quegli altri quindi entrati in prova siamo entrati con il nostro passo abbiamo fatto diciamo quello che potevamo fare e poi vedendo i tempi potevamo fare veramente bene perché abbiamo fatto degli ottimi risultati quindi è andato è andato veramente bene mi ha aspettato perché la prima sera con 30 secondi c'è un po sbalordito la cosa ecco tu avevi fatto conto di poter dovertela lottare con i vari lucarelli nesti ancillotti eccetera gente che sull'r2b già qualche gara l'ha fatta è stato uno stupore per te vedere che dopo quattro prove avevi quasi 30 secondi di vantaggio oppure detto oddio sogno son desto che no abbastanza stupito ero infatti perché noi abbiamo messo abbiamo fatto il nostro passo senza mai esagerare e i tempi venivano fuori quindi eravamo molto contenti quanto tempo avete dedicato simone a provare questa questa gara ma se la gara fondamentalmente la conoscevamo bene e abbiamo fatto le nostre ricognizioni con i tre passaggi a prova perché diciamo in ottica futura abbiamo sempre pensato di non dover esagerare con i passaggi nelle prove speciali e quindi abbiamo tenuto i nostri tre passaggi a prova e a regola si anche prove conosciute è sempre più semplice tre passaggi però è questo il regolamento e va rispettato e bisogna adeguarsi andare per riuscire a andar forte con i tre passaggi sentite un po qua però dovete dirmi la verità e cosa vi siete detti sabato sera a metà gara no perché qualcosa si dice sempre nell'abitacolo quindi qua fate finta che non ci fossi però ci aspettavamo qualcosa di più oppure ci aspettavamo qualcosa di meno insomma andare a letto sabato sera nella top ten è stata una bella soddisfazione e alla domenica mattina e detto si continua nello stesso passo oppure si amministra abbiamo bugiano era la prova ci torniamo un pochino peggio quindi abbiamo un po gestito mentre sul lanciole che conosceva un po di più che poi avete fatto una volta sola per il tragico evento che è successo abbiamo appunto mandato il nostro passo tenendo un ottimo passo diciamo bene ragazzi anche perché poi hanno vinto con sul secondo classificato di classe r2b con 58 secondi cioè quello che ai miei tempi si chiamava una vita e quando quando si arrivava a due tre secondi era una gara combattuta 58 dicevi vabbè tu sei un paracarro e si sa che noi e noi invece si va e beh erano così cambiano gli anni ma la realtà sono sempre sempre quelle le misure sono quelle lì senti come ben sai e soprattutto anche tu lo sai il purtroppo il tempo corre veloce quindi siamo abbastanza compressi la realtà è san budget il famoso santo che tutti gli appassionati di motori si votano per cercare di trovare la sua intercessione qual è la tua prossima idea di corsa soprattutto portata dal fatto che appunto san budget ti dia una mano se san budget ci dà una mano vorremmo fare gli appuntamenti toscani della coppa italia quindi ovvero reggello e la gara di casa pistoia per cercare di ben figurare nel r2 vedremo vedete è bello parte a partire con un'intervista con persone che sanno esattamente che sono proprio rilassate almeno così danno l'idea di essere anche perché thomas è già stato da noi l'anno scorso eccetera non con la stessa bianca fulvida camicia ma con un'altra e fondamentalmente però quest'anno ha dimostrato che facendo il passo da una categoria inferiore dell'anno scorso e giustamente salendo di un gradino si è dimostrato una una persona dalla testa vincente soprattutto dal piede pesante t'aspettavi tu che sei al solo terzo anno di attività di navigare un pilota così volenteroso nel fare risultati ma soprattutto anche sicuro nella guida perché vedendo le immagini non sbaglia traiettorie l'impostazione esiste ma è una staccata fuori luogo come l'hai vissuta si sinceramente io sempre detto a thomas e comunque questa idea del navigatore del pilota come due persone due amici in macchina che hanno che riescano alle gare in maniera particolare e con che vanno insieme alla fiducia e sinceramente gli errori possono venire da una parte a una parte dall'altra assolutamente non nessuno ha mai ha mai preteso l'impossibile e niente crescendo insieme sicuramente sono cose belle e difficili da da poter interpretare all'inizio però ora dai diciamo che ci siamo trovati bene le cose ci stanno dando ragione quindi siamo felicissimi per questo aspettiamo di andare un po avanti e vedere che dice i tempi magari su confrontandosi in altre gare bene signori big man ha detto stop noi ringraziamo thomas paperini e simone fruini oltretutto fanno anche rima fra di loro e la realtà è che finora hanno fatto una gara e hanno veramente non hanno avuto rivali si spera che se sun budget farà questa grande miracolo saranno le persone da battere al prossimo raggello dopo di che ci sarà pistoia dopo tutta la fase estiva di riposo di riposo infatti fa troppo caldo correre così e magari ce le ritroveremo a fine stagione che vedremo magari che ne so una bella scia dei risultati qualcosa di più e sicuramente si cominceranno cominceranno a pensare magari a qualcosa di più impegnativo diciamo che questa è la previsione poi chi vedrà vedrà ok